ciao ragazzi come state spero bene ho aspettato prima di registrare questo questo video ho aspettato perché ero curioso di continuare a leggere e di continuare a leggervi anche sui sui social su facebook su twitter insomma e via e via dicendo e alla fine mi sono deciso a girare questo video per commentare civilmente come sapete la mia pagina si chiama così il risultato delle ultime consultazioni europee di domenica 26 maggio e dateli conoscete no ha vinto anzi ha stravinto la lega di matteo salvini che ormai è il primo partito d'italia il primo partito d'italia con il 34 e virgola per cento e oltre delle delle preferenze ha come dire risalito la china il partito democratico che forse ha beneficiato del cosiddetto effetto novità rappresentato da da zingaretti anche se zingaretti non è affatto una novità perché sta in politica da quando indossava i pantaloncini corti comunque forse il pd risentendo del dell'effetto ecco così zingaretti è risalito al 21 per cento circa superando il movimento 5 stelle che adesso è diventato da primo partito d'italia il terzo partito d'italia il terzo partito d'italia ora io non voglio prendermela con l'uomo della strada non non ce l'ho con chi vota ancora berlusconi non ce l'ho neanche con chi ha votato lega credetemi ma semplicemente ragazzi per per un motivo perché in democrazia e per fortuna siamo in democrazia ognuno vota per chi gli pare ognuno ha il diritto di avere le proprie opinioni quindi ben venga la la lega come primo partito se è questo che gli italiani vogliono e se questo che gli italiani hanno voluto invece ragazzi oggi voglio prendermela con chi fa o dovrebbe fare il mio stesso mestiere e cioè quello di giornalista e io sono molto arrabbiato ragazzi con con la mia categoria non a caso spero di superare un concorso pubblico e di uscirne al più presto possibile sono molto arrabbiato ragazzi con la mia categoria perché ritengo che la mia categoria sia la sola responsabile della vittoria di salvini qualcuno mi dirà ma che stai dicendo sì ragazzi è così la responsabilità per non usare non voglio usare il termine colpa la responsabilità è soltanto ragazzi della stampa ok per quale motivo allora partiamo dal come dire dalla prima grande bufala che è viaggiata attraverso il tubo catodico e attraverso i social no e cioè che il governo sarebbe stato e sarebbe ancora e sarebbe tuttora maggior ragione a maggior ragione attrazione leghista ora ragazzi voi dovete spiegarmi no come fa a essere ad attrazione leghista un partito che in un anno di governo un anno di governo ha prodotto da parte del ministero che rappresenta quel partito quindi il ministero dell'interno come tutti sappiamo due soli provvedimenti il decreto sicurezza contestato anche dal dallo stesso culinale criticato dal dal presidente della repubblica e che presenta anche alcuni come dire profili in odore di incostituzionalità no e il decreto sulla legittima sicurezza basta questo ha prodotto Matteo Salvini la legittima di Matteo Salvini in un anno di governo legittima difesa decreto sicurezza stop basta ragazzi nient'altro il nulla cosmico per caso ha pubblicato un bando dove ha assunto migliaia di poliziotti no per caso ha tagliato i costi del suo ministero no per caso ha prodotto una riforma capace di innovare di ribaltare come un calzino la macchina amministrativa del suo di castero manco per idea che ha fatto ragazzi Matteo Salvini nulla post su facebook live facebook annunci sponsorizzati su facebook tweet su twitter questo ha fatto Salvini Salvini è il ministro dei social media è il pr territoriale per eccellenza se lui va ad arezzo a sostenere la campagna elettorale di un leghista lui si mette la felpa con su scritto prima gli aretini se va a bologna si mette la felpa con su scritto prima i bolognesi se viene ad acerra o ad afragola si mette la felpa con su scritto prima gli acerrani e prima gli afragolesi questo è Salvini ragazzi io non oso immaginare che tipo di felpa indosserebbe se andasse a trovare Rocco Siffredi probabilmente una scritta una una felpa con su scritto prima il pene insomma o prima l'organo riproduttivo no è ovvio questo è Salvini ragazzi e voi cialtroni che non siete altro siete stati capaci di ripetere per un anno intero che comandava Salvini o che faceva tutto Salvini vi dovete solo vergognare siete dei cialtroni andate ad incartare il pesce neanche a pescarlo ragazzi perché la pesca è una cosa seria e voi non siete seri seconda bufala seconda bufala ancora più clamorosa e paradossale della prima la deriva nazista e fascista del nuovo governo e la deriva fascista che starebbe prendendo il paese Italia benissimo dopo le ultime elezioni europee casa pound e forza nuova e cioè le uniche due forze che hanno simpatie manifeste simpatie palesi no per il fascismo hanno totalizzato un arrapante 0,48 per cento in due questo significa cari cialtroni giornalisti cialtroni che sommati questi due partiti ragazzi non sono arrivati neanche all'uno per cento e hanno preso meno del partito animalista ora a questo punto mi aspetto da voi che iniziate a raccontare il pericolo di un'invasione di gattini o di una pericolosa svolta canina